Calcio mercato, voci di partenze per Cassi Sonia Caldara, tra i rumors anche Baro e Kulusevski. Ber Cassi guarda Mattia Caldara come rinforzo, sperando però in un ritocco dell'ingaggio. Si fiamma il calcio mercato di fine anni, anche con i primi colpi sentiamo le voci di corridoio. Al primo posto sul fronte calcio mercato c'è la mossa di Marotta che sta cercando di far arrivare all'Inter Kulusevski, ma il discorso è fattibile solo per luglio. Il giocatore svedese attualmente è al Parma solo in prestito. Sul fronte partenze si sta valutando la situazione di Baro, richiesto con insistenza dal Bologna, mentre sarebbero in partenza il difensore danese Cair che ha chiesto di andarsene e il brasiliano Arana entrambi in prestito al Sevilla. Per loro si prospetta un futuro in Spagna. Per gli acquisti si vocifera il nome di Mattia Caldara, sarebbe il sogno di per Cassi. Per l'ex atalantino sarebbe anche la possibilità di una rinascita calcistica, visto che non è ancora sceso in campo in campionato per una serie di infortuni. Con il Milan Caldara ha giocato solo una partita in Europa League ed una in Coppa Italia. L'operazione, viste le quotazioni del giocatore, non è facile, ma nemmeno impossibile. L'ambiente conosciuto e il prestigio acquisito dall'Atalanta sul campo potrebbero essere un buon incentivo per convincere Caldara ad un'autoriduzione dell'ingaggio.